Grazie a tutti. Non credono, non adorano, non sperano e non piacciono. Bene, se vi siete alzati tutti quanti, proviamo ad alzarci. Piazziamo il rosario proprio come un brello. Ave Maria, ave, ave, ave Maria. Oh Padre di Dio, Regina d'amor, la pace tu doni al mondo. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Parto al mistero glorioso. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Nome dolcissimo, nome d'amore, Tu sei il fuggio al peccatore. Tra i cori angelici dell'armonia. Ave Maria, ave Maria. Tra i cori angelici dell'armonia. Ave Maria, ave Maria. Ave Maria, ave Maria. Sì. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.